Come è andata oggi? Sì, ho dato tutto quello che era dentro, era un'occasione per sfugarsi, è uscito questo risultato, guardare avanti e essere fiducioso, adesso non perdere la fiducia, più che altro sul salto mantenere la calma e la tranquillità. Vediamo quel che esce e... è buono. Cosa ne pensi di questi mondiali, come ti stai fare? Oh sì, sicuramente la forma non è quella che mi son aspettato, è una roba che non posso prenotarmi e niente, se no tutto è bello, l'organizzazione è fantastica, tutti danno il meglio, Pampolini è preparato ottimamente, visto da fondo è uno spettacolo e niente, l'atmosfera c'è e bisogna prendersi questa energia positiva. Grazie. 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 Grazie.